Un saluto, quello di ieri delle frecce tricolori che hanno sorvolato la città senza esibizione, dedicata a Paolo Dal Pozzo, il collega del 118 morto tragicamente sabato mattina in aeroporto. Era giusto così, dopo l'annullamento del air show, la pattuglia acrobatica ha voluto comunque rendere omaggio al copilota investito da una cisterna sulla pista di Preturo. Una sorpresa per tutti gli aquilani che non era stata annunciata, ma un omaggio doveroso per chi ha perso la vita a causa di una tragica fatalità. Ieri il sindaco e il consigliere comunale Livio Vittorini hanno assistito al sorvolo in aeroporto per ringraziare l'aeronautica per l'omaggio. Assieme hanno deciso di non pubblicizzare il sorvolo e di renderlo un momento intimo e di cordoglio attorno al quale si è stretta un'intera comunità. C'è l'inchiesta ovviamente e la procura apertura un fascicolo per omicidio colposo. Oggi nuovi rilievi sul posto da parte del personale competente della ASL per valutare se siano stati rispettati i protocolli di sicurezza. Un incidente classificato comunque come incidente sul lavoro e come atto dovuto. La procura è scritto sul registro degli indagati il conducente della cisterna, un uomo di 45 anni dell'Aquila, anche lui sotto shock. Da una prima ricostruzione, sentendo anche i testimoni, pare che dal pozzo era posizionato dietro la cisterna per scattare delle foto. Particolare che in queste ore gli inquiranti stanno verificando con l'analisi del cellulare della vittima. Il conducente dell'autobot era sceso dal mezzo ed era stato avvisato del decollo dell'elisoccorso. Risalito sul mezzo in retromarcia ha investito dal pozzo. Probabilmente non era visibile dagli specchietti. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dal magistrato ed è stato affidato l'incarico al medico legale Giuseppe Calvisi che domani dovrebbe effettuare l'autopsia. Dal pozzo era pilota esperto e stimato, appassionato anche di tutti gli aspetti dell'ingegneria del volo. Sposato e papà di due bimbi piccoli era da pochissimo in servizio all'aeroporto. Di certo un fatto tragico che ancora una volta ha scosso la comunità aquilana e tutti i colleghi del 118 che già avevano pagato a caro prezzo l'incidente di qualche anno fa durante un recupero a Campo Felice.